Un saluto grandissimo a Gossip News. È felice e nuovamente stretto all'amore della sua vita. Matteo Materazzi, fratello del campione del mondo con la nazionale Marco, all'isola dei famosi da naufrago è durato davvero poco. La lontananza da mio figlio sicuramente, dai miei figli, quindi sono tornato per quello e soprattutto le amicizie, tante cose belle che fai qui, anche se è un'esperienza che ho voluto fare che probabilmente rifarei con un altro stato d'animo perché in quel momento non ero pronto e predisposto per poterlo fare, anche se sono partito per contratto e tutto, però probabilmente mi è dispiaciuto abbandonare all'undicesimo giorno. Vorrei l'opportunità di poterlo rifare ma so che è una cosa improbabile.